Bella ragazzi e benvenuti in questo mini video Eccoci qui al link per il giveaway di Instant Gaming Lo metterò qui sotto nelle info del video Però manca un giorno e tre ore Quindi manca pochissimo ragazzi Avete, mentre state guardando il video che è uscito oggi Avete il tempo ovviamente Tra 24 ore scatta il giveaway Quindi ragazzi, mi raccomando Link che vi metto qui sotto nelle info Fate i bravi ragazzi perché manca poco Iscrivetevi tutti, potete partecipare tutti Vi ricordo sempre di scegliere i giochi della piattaforma giusta Quindi mi raccomando controllate Steam, Origin, Rockstar Si è aggiunto anche Rockstar ragazzi Xbox, Indie, PS4, Nintendo, Battle.net e Uplay Quindi mi raccomando Controllate sempre, sempre, sempre questa cosa Mi raccomando Adesso finisco questa live che sto facendo Perché adesso ve lo sto raccontando in live E poi ve lo metto sul canale YouTube Però, come potete vedere Potete aumentare la vostra fortuna Diciamo Diciamo Seguendo tutte queste cose che ci sono qui sotto Quindi basterà Attivare tutte queste cose qua E siete completamente a posto Mi raccomando ragazzi Partecipate in tanti Non so nient'altro da dire Perché alla fine basta che andate nel link qui sotto Eh, vi ripeto ancora ragazzi Mi raccomando La piattaforma Non sbagliate La maggior parte dei giochi sono su PC Ma guardate sempre quello che comprate Che poi non comprate Perché è un giveaway E quindi potete scegliere Tutto quello che volete Gratis Ovviamente se vincete Fatemi sapere poi Se siete appunto i vincitori Così almeno Magari vediamo anche su Instagram Mi taggate Fate un po' quel cacchio che volete Raga Qui sotto Link Mi raccomando Giveaway